Dritti, su per la collina, niente curve, è vietato stare uno dietro l'altro, è vietato fermarsi, chi arriva ultimo paga penitenza. Siamo rimasti senza parole, era una gara. Acqua, ti prego, portami dell'acqua. Mi sono fermato perché quella era una brutta storia. Sono la madre di Filippo Carducci, mi rivolgo al sequestratore di mio figlio, vi imploro, non fateli del male. Il riscatto che avete chiesto è molto alto, ma io e mio marito siamo disposti a darvi tutto quello che consigliamo. Avete minacciato di tagliarvi un orecchio, vi prego, vi supplico di non farlo. Due ore che li tagliamo, così impara a parlare alla televisione. Michele, hai giurato sulla testa di tuo padre, mi raccomando, che razza di casino Michele. Ci sono cose che sembrano sbagliate quando uno, il mondo è sbagliato, adesso dormi, devo tornare di là. Sentivo i loro bisbili nelle tenebre, lì dietro c'erano i signori delle colline, i giganti di terra, aspettando soltanto che finissi fuori strada per venirmi a seppellire. Ma Lazio non aveva paura di niente. Filippo, sto arrivando! Filippo, arrivo! Filippo, lo soff